La prossima settimana si prospetta rovente anche per la nostra regione con temperature che supereranno i 30 gradi. Come sempre luglio e il mese estivo per eccellenze sono preziosi i consigli che medici ed esperti danno alla cittadinanza per evitare colpi di calore o addirittura malori. Mauro Petrucci, segretario regionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale ci fornisce per così dire istruzioni per l'uso. Io comincerei un po' dall'abbigliamento. È importante vestirsi con tessuti naturali tipo fibra di cotone, fibra di lino che siano chiari. Io eviterei assolutamente le fibre sintetiche principalmente per due ragioni. Prima perché la traspirazione è sicuramente minore con questo tipo di fibri, di tessuti e poi perché magari con la sudorazione possono diventare anche allergizzanti per il corpo e quindi provocare delle dermatiti o quant'altro. Poi la cosa più importante è ripararsi, ripararsi bene, evitare innanzitutto di uscire durante le ore più calde. Mi riferisco soprattutto alle persone più avanti negli anni che magari sono più fragili a questo tipo di temperature. È importante idratarsi molto, però privilegiando soprattutto l'acqua. Io eviterei altre bevande tipo bevande alcoliche, aperitivi. E non esagerare con il caffè, dice il dottor Petrucci. Perché? Anche il caffè che magari uno potrebbe assumere perché pensa che gli faccia tornare un po' sulla pressione, però la caffeina ha anche un effetto diuretico per cui possiamo perdere dei liquidi. Dobbiamo tener conto che il nostro corpo, la nostra quota, si comporta come un radiatore. Quindi con il caldo, per abbassare la temperatura interna, permette e consente una maggiore perspirazio e sudorazione. Noi perdiamo liquidi con il sudore che è visibile. Poi abbiamo una perspirazio che è una specie di evaporazione che noi non percepiamo, che però ci fa perdere liquidi. Quindi è importante reintrodurli. E per chi assume dei farmaci? Soprattutto pazienti che assumono farmaci per l'ipertensione, sarebbe opportuno magari passare dal proprio medico, ricontrollare i valori di pressione e adeguare anche la terapia a questi valori. Perché l'effetto del caldo è come se noi assumessimo un altro farmaco ad azione vasodilatatrice e quindi contribuisce a potenziare l'effetto magari del farmaco che uno sta già assumendo. Dopodiché è importante una dieta molto leggera, evitare di assumere grassi, molti carboidrati. Quindi diciamo una dieta prevalentemente con verdura, frutta, pesce che è la cosa migliore. Non abbuffarsi ed evitare l'assunzione di zuccheri liquidi come diciamo noi. Soprattutto nei pazienti che magari sono portatori di malattie metaboliche tipo il diabete. Dopodiché coprirsi il capo, evitare appunto di uscire nelle ore calde. Questo vale non solo per il mare ma anche per la montagna. Oltretutto perché come saliamo di altitudine anche l'effetto dei raggi ultravioletti diventa più importante e quindi è necessario coprirsi.